E' arrivata oggi l'ufficialità che Chieti nel 2025 sarà Città Europea dello Sport, un riconoscimento importante destinato a diventare vettore di un nuovo modello di sviluppo. Innegabile la valenza sociale e la promozione del territorio. Sono quasi 2000 infatti le associazioni che insistono in tutta la provincia, 500 in città e oltre 10.000 le persone che praticano sport. Una vivacità che certifica la vocazione sportiva della città. Il sindaco Diego Ferrara. Questo traguardo è il frutto di un lavoro continuo, di un lavoro a 360 gradi da parte dell'amministrazione per riportare strutturalmente e funzionalmente all'apice delle loro possibilità tutte le strutture sportive che questa città di appena 50.000 abitanti ha, e che non ha nulla da invidiare a città più grandi che sono attorno a noi. E conseguentemente posso dire che questo titolo ce lo siamo ampiamente meritato. L'assessore Emanuele Pantalone ricorda il grande lavoro svolto sull'impiantistica sportiva della città e anche cosa accadrà da qui al 2025. 18 impianti sportivi fruibili e sostenibili a livello economico. Quest'anno abbiamo conseguito un ulteriore obiettivo perché l'Enter risparmierà 400.000 euro proprio per quelli che sono i costi legati all'impiantistica sportiva cittadina. Abbiamo dato in concessione ulteriori due impianti, ossia lo Stadio Angelini e il Palatricale, ma l'abbiamo fatto mantenendo attivi i servizi e anzi rafforzandoli. Questo è un grandissimo risultato che oggi ci viene riconosciuto anche con questo importante premio. Ovviamente adesso ci sarà un grande lavoro perché insieme agli organizzatori, insieme al CONI, insieme a Sport e Salute, insieme a tutte le autorità sportive nazionali realizzeremo non soltanto un grande anno, ossia il 2025, per lo sport e per la nostra città, ma da subito inizieremo ad organizzare tutta una serie di eventi propedeutici a questo anno perché ci arriveremo veramente volando perché tante saranno le iniziative sportive che organizzeremo.